Grazie a voi, che ha bestato l'ultimo evento Dion, signore e signore vincitore, eccolo qua, SM! Grande momento, grande momento di sport, cascita, pensate, 7 ore e 27 di gara, interminabile per loro, iniziate con 2 km di nuoto, proseguita con 200 km di bicicletta, sembrava cosa fatta per Dion, ma...